Hai appena perso la tua risorsa chiave di magazzino, ma il tuo lavoro non si ferma con Gulliver. Gulliver è l'innovativo software per la logistica che è indipendente dalle risorse umane. Cosa vuol dire? Che Gulliver conosce alla perfezione il tuo magazzino, sa esattamente quante risorse disponibili hai e quale attività sono in corso. Così, se il tuo storico responsabile si ammala, beh, il tuo lavoro è sempre in ottima forma. Perché Gulliver rende subito operative le risorse, dà le istruzioni alle forze lavoro, le guida nei percorsi di picking e le indirizza verso le giuste posizioni e con le giuste modalità. Da oggi il tuo magazzino non ha bisogno di una persona che lo guidi, se alla guida c'è Gulliver.